Alla seconda serata di Sonore Alchimie, presente la dottoressa Anna Maria Frustaci, procuratore distrettuale di Catanzaro, che ha presentato il suo libro La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia, linea a Lorena Pallotta. La dottoressa Anna Maria Frustaci, sostituto procuratore a Catanzaro, da due anni lei è sottoscorta, come si vive da donna soprattutto una vita così difficile e ristretta? Mi viene spesso chiesto che cosa significhi, ma io da questo punto di vista credo che si tratti di misure e tutorie ordinarie, funzionali naturalmente al lavoro che svolgo, ma ciascun magistrato, sia esso con tutela, con scorta o senza misure e tutorie, affronta naturalmente delle scelte di vita più riservate. Per cui, naturalmente, come noi viviamo il nostro lavoro e lo interpretiamo, non è un peso o un sacrificio, ma è funzionale a rendere più efficiente il nostro lavoro nei momenti delicati. Lei è giovanissima entrata in magistratura e immediatamente percorso la strada dell'antimafia. Cosa l'ha spinta e soprattutto qual è il suo messaggio alle giovani generazioni? Mi ha spinto a fare questo lavoro il desiderio di dare il mio contributo per un cambiamento importante nella mia regione. Naturalmente spero che con il racconto di questo libro, che mi ha dato la possibilità di parlare spesso con le generazioni più giovani, possa rappresentare per loro anche un momento importante per le scelte che vorranno compiere, quale che esse siano, per il loro territorio. Quindi la mia speranza è che resti loro un messaggio positivo sul cambiamento che loro possono concorrere a determinare per la nostra terra. Il ruolo delle famiglie nell'educazione dei più giovani? È un ruolo centrale. Indubbiamente la famiglia è l'agenzia formativa più importante. Però non dobbiamo sottovalutare il ruolo della scuola, che non solo può sostenere le famiglie in questo compito formativo delicato, ma può spesso, a volte accade, sostituirsi nei momenti in cui le famiglie non siano in grado di dare quelle risposte formative di cui i ragazzi hanno bisogno. Un messaggio a un giovane, a una giovane, che magari desiderano uscire dalle maglie magari di una famiglia mafioso, di un contesto mafioso. A chi rivolgersi? Cosa fare? Come agire? Quando bisogna affrontare un cambiamento così importante, bisogna affrontarlo in modo estremamente riservato, interloquendo in modo riservato con l'autorità giudiziaria e soprattutto avendo la consapevolezza che in questo percorso non si viene lasciati soli. È un percorso in cui il magistrato sa farsi carico anche delle responsabilità che derivano da scelte così delicate per chi le compie.